via senti smettiamola dai buongiorno principesso piantala che dici sono bravo come cameriere lascia il curriculum magari hanno finito la cartigenica bravo te vai in bagno a controllare se c'è via che ti metto via che dici sono bravo come cameriere lascia il curriculum occhio guarda che io conosco via non smetto nemmeno di registrare dai non mi fate finire la batteria aspetta occhio no via si si è lui e vuole vendere le sue quote alla madonna non mi vedi via si si è lui e vuole vendere le sue quote a me proprio a me che sono un attore un pezzo di merda un cane via strano cosa? bando non era americana perché non hai detto via che scemo che sei vai vai dai da morisci è una cosa ma guarda è troppo importante mi è stata proposta la direzione di un giornale mi hanno trasferito a Milano parto tra un paio di mesi dove vai? è un'occasione che non posso non fare è troppo importante sono quei treni vai no Manu no Manu che cazzo ride no 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 io va a fare certo vai dai da anni mi hanno visto la cosa non ho fatto l'unico una cosa troppo importante mi è stata proposta la direzione di un giornale mi hanno trasferito a Milano parto tra due mesi perché lo guardo l'ho guardato che devo fare? vai entra te gli salti addosso e gli fai scusa che ne sono scusa Samina che ne sono no aspetta vai ascolta per farti era breve io sono una giornalista e nella mia piccola realtà abbiamo promosso parecchi giovani te sei un attore? te sei un attore vero? zitti vai ascolta io non c'è la risata ascolta quando dici mai io rido ok zitti dio merda vai zitti veramente comunque vai dove è la risata? ma che dov'è che la devo fare? devi ridere no rido divertita non è che devi fare ah 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 rido divertita rido divertita non è che fai eh sì ma ridi cazzo non stavi ridendo stavi facendo una sega vai non si sente niente devi fare ah 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 senti io sto registrando tutto perché è bellissimo conta fino a 3 e riparti con la risata dai dimmi quando dici mai è staggianto registrando vai senti io scrivo su un giornale si chiama Nightlife dacci un'occhiata magari cerchi informazioni su internet mannaggia la madre che cazzo non si ricorda e che devo fare? vai entra e te gli salta addosso e gli fai scusa che le so scusa famiglia che le so